Gestione della traccia atto secondo, torniamo sul luogo del delete. Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude e oggi torneremo a parlare della gestione della traccia come già avevamo iniziato a parlare venerdì scorso, quindi una settimana fa, su come gestire questa traccia che noi abbiamo sul computer, le nostre produzioni che abbiamo finito e non sappiamo cosa farne, cioè a chi la do, come gliela do, come gliela invio, come gliela in pacchetto, che cosa devo scrivere nella mail. Per quelli che hanno già visto la puntata dell'altra settimana sanno già di cosa stiamo parlando, altrimenti la ritroverete qua sul canale, ma oggi andiamo avanti. Il secondo atto parleremo principalmente di sample, quindi campionamenti, campioni e quanto si può campionare e dove si può campionare e cosa rischio e cosa non rischio. Ci sono anche qua un sacco di dicerie, un sacco di leggende che in pochi riescono a sapere veramente, ma noi siamo andati a cercare chi questo lavoro lo fa 24 ore su 24 e quindi parleremo, come la scorsa settimana, con Jay Work e con Luca Peruzzi che ci sta attendendo in linea. Luca, ci sei? Ci sono, ci sono, siamo pronti per parlare di cose interessantissime questa sera. Eh sì. Ci saranno delle cose che veramente interessano tantissimo tutti i produttori, tutti i DJ e tutti quelli che fanno musica elettronica. E ce l'hanno chiesto tantissimo già nella prima puntata, era un argomento molto richiesto questo. Infatti, anche solitamente, anche nelle email che riceviamo in Jay Work, molte delle richieste sono sull'utilizzo di cosa? Sull'utilizzo dei sample, dei campionamenti e sull'utilizzo delle banche suoni acquistate, su parti delle banche suoni acquistate o anche addirittura di voci prese da piattaforme tipo Splice, dove si prendono, si acquistano delle voci. E tutti ci chiedono se possono essere utilizzate, se non possono essere utilizzate, come utilizzarle correttamente. E oggi parliamo proprio di questa cosa. Anzi, diamo, cogliamo l'occasione perché questa essendo una premiere potete chattare con noi dal video, quindi se avete qualche dubbio noi vi rispondiamo in diretta, siamo qua in chat con voi, potete chiedercelo e soprattutto cerchiamo di far chiarezza su questo argomento che è sempre discusso da anni e anni, da quando ci sono le produzioni, e sfatare un po' di leggende perché c'è i vari mio cugino, le varie situazioni dove si parla quattro secondi. Questo cavolo cugino è sempre in mezzo, cioè mio cugino mi ha detto che si possono utilizzare i sample fino a che ne prendi quattro battute, due battute, otto battute, non si capisce. Oggi affrontiamo tutto. Senti, allora, faccio il cerimoniere, visto che te sei ospite, ti chiedo, anzi, sfruttiamo le tue competenze e tutti quelli del tuo staff, anzi, ringraziamo già da oggi J-Work e tutto il team per essere sul canale SOS4DJ che ci spiega gratis, perché questi sono tutti contenuti a gratis, diciamolo. Non lo so, adesso vediamo. Vediamo, perché poi lui dopo mi manda la nottula, capito, mi manda la fattura. Eh, giustamente, poi dopo me la devo smazzare io. Quindi donate, donateci. Bene, a parte gli scherzi, oggi parleremo proprio, partiremo da il campionamento. Come funziona, che cosa vuol dire, anzitutto, perché ci sono persone che non sanno che cos'è il campionamento. Quindi partiamo terra a terra fino ad arrivare alle cose. Partiamo dalle basi. Illustraci. Il sample o campione, come viene detto in Italia, è l'utilizzo di una parte, di un brano esistente e noi ne rubiamo un frammento, una parte, una qualsiasi forma già esistente di musica, già pubblicata. Noi ne prendiamo una parte per farne un'altra opera. Questo è il campionamento. Cioè noi prendiamo un otto battute di Billie Jean di Michael Jackson e lo mettiamo sopra un altro groove e gli mettiamo sopra un'altra melodia. Però utilizzando il giro di basso, il giro di piano, il giro di qualsiasi altra cosa, di un altro brano. Benissimo. Quando sfatiamo ogni tipo di leggenda metropolitana, questa cosa non si può fare. Cioè non importa quanto ne prendete, ma state rubando. Ok? Bene. Allora, come sempre, la musica vive di appunto leggende e di cose mai dette chiaramente. Allora, praticamente il discorso sul sample è che per utilizzare qualsiasi sample di qualsiasi brano bisogna avere l'autorizzazione del proprietario del master e del proprietario della parte editoriale e quindi dell'editore. Senza queste due autorizzazioni voi non potete usare parti di altre canzoni. Quindi, ricapitolando, questo... Sgombriamo subito il campo da questo fatto. Non si può fare. Né un secondo, né due secondi, né quattro secondi, come si diceva negli anni Ottanta. Cioè, praticamente, quando tu entri in un negozio e rubi un chilo di... Banane. ...o di patatine, che tu ne rubi un chilo o un etto, hai rubato uguale. Quindi questa storia del ne prendo due parti, ne prendo quattro parti, è una grandissima caola. Perché si era diffusa questa voce negli anni Novanta, che si potevano campionare fino a quattro battute, se non mi sbaglio, se mi ricordo bene, correggimi se sbaglio. Negli anni Novanta, tutti quelli che hanno fatto dischi, che sono diventati poi famosi, contenenti dei campionamenti, hanno dovuto pagare o cedere totalmente la proprietà del master. Ci sono casi anche dance come gli Usura, per quel che riguarda Simple Minds, tantissimi casi. In Italia poi siamo pieni di questi casi e, vabbè, partiamo da Black Box con Ride on Time, che aveva campionato Leata Holloway, partiamo con Usura, come tu hai accennato prima, con i Simple Minds, e tanti altri casi. Bene, in tutti questi casi il proprietario di quel frammento di canzone ha vinto la causa. Quindi, se voi fate un brano che rimane completamente inascoltato o con pochissimi riscontri, quindi non diventa assolutamente famoso, difficilmente qualcuno vi viene a rompere le palle. Se invece il vostro brano esce dai bassi fondi della musica per alzarsi un pochino e diventare leggermente famoso o conosciuto o suonato, ecco lì interviene subito a castigarvi il proprietario del master o il proprietario della parte editoriale. Eh sì, perché se iniziano ad andare bene le cose, te inizi a gioire, invece è proprio lì che ti devi preoccupare. È proprio lì che ti devi preoccupare perché ci sono cause in giro. Io ho conoscenti che hanno preso delle cause internazionali e soprattutto bisogna stare attenti agli statunitensi in questa vicenda perché ci sono molti nostri colleghi, amici e conoscenti, anche tuoi, che hanno preso negli anni delle cause internazionali anche solamente per aver rubato un beat di un brano famoso. Anche questo bisogna dirlo, perché c'è anche il discorso dei groove, delle battute che chiariremo anche questo, perché non è solo la melodia o la voce o quello che vuoi. No, no, assolutamente. Tu prendi, allora, è come se tu, come dicevamo prima, vai a rubare in casa di un altro. Esatto. Perché alla fine dei conti tu cosa stai facendo? Stai rubando la proprietà di un altro senza chiedere a lui la possibilità di utilizzarla. Infatti, infatti. Quindi il fatto che tu ne prendi solamente quattro secondi, tu stai prendendo quattro secondi dell'opera artistica di un'altra persona. Cioè non vai a Louvre a tagliare un pezzettino dalla gioconda e dire ah ma ne ho preso solo un centimetro, pensavo si potesse fare. Non è così, non puoi farlo. Non puoi prendere un pezzettino della gioconda, portartelo a casa e farci un quadro attorno perché hai usato solo un pezzettino della gioconda. Non è fattibile e non è fattibile quello e non è fattibile neanche prendere uno dei dischi che sono qua dietro o dietro da te e dire va bene ho preso solamente una parte, cosa vuoi che sia? Esatto. Ne ho preso solamente una parte, non possono rompermi i coglioni e invece ti rompono i coglioni giustamente. Poi un'altra diceria è che la melodia non lo posso prendere, io come al solito faccio la voce del popolo per metterti anche te nelle condizioni di rispondere al meglio. Un'altra diceria cita che si può prendere i groove ma non le melodie, cioè io posso prendere le quattro battute del pezzo house che sta andando cioè la ritmica tumstaz, tumstaz per capirsi, per farla in breve e rimetterla sulla mia. In realtà anche quello non si può fare, poi che ti becchino o non ti becchino sta sempre nel fatto come hai citato tu prima quanto diventerà famosa la canzone. Esatto, quanto interesse c'è dietro. Quanto interesse, quanto sei solvibile. Adesso andiamo per parlare di cose tangibili. Il tuo brano su Spotify ha fatto 522 streaming, che uno vada da un avvocato e ti faccia causa per quel brano lì la vedo dura, anche perché non ti può togliere niente. Se invece prendi la voce di una major, di un artista appartenente a una major, allora sappiate che tutte le major hanno all'interno degli uffici che si occupano della ricerca online dell'utilizzo dei brani. Quindi sono pronti a scatenare qualsiasi cosa, tanto hanno gli avvocati, ce li hanno già pagati dentro. Quindi per loro mandare una richiesta danni. Non vedono l'ora di sguinciagliare i cani. Ultimamente a un nostro collega, molto conosciuto di cui non faccio il nome, è arrivata una richiesta danni per l'utilizzo di un frammento di una foto in un video che ha utilizzato. Ostia. Non aveva il permesso di utilizzare quell'immagine. Eh. Ok? Gli è arrivata una richiesta danni minima di 800 euro. Minima. Ok? Stiamo parlando di niente, però l'avvocato gli ha detto pagali e fa la finita lì. Eh sì. Quindi voi andate a prendere un pezzo di un video, oggi rischiosissimo. Un pezzo di una foto, oggi rischiosissimo. E un pezzo musicale, oggi rischiosissimo. Perché spesso... Cioè anche perché a differenza degli anni 90-2000, dove i brani venivano fatti campionando, sostanzialmente, oggi il sistema di riconoscimento è talmente efficace che ti beccano in un attimo. Sì, perché poi parliamo anche degli algoritmi di ricerca, perché come Shazam... Quando tu carichi tramite un aggregatore, tante volte è l'aggregatore stesso che ti pone dei vincoli, che ti dice guarda che qui c'è qualcosa che non va in questo parano. Eh sì. Eh sì. E proprio lì ti è già il primo campanello d'allarme che dovrebbe farti capire che hai fatto qualcosa che non va. E cosa importantissima, lo dico a tutti i DJ, i produttori e quant'altro. Quando voi firmate un contratto con una etichetta discografica seria, cosa succede? Questa etichetta discografica mette nel contratto che voi siete assolutamente responsabili al 100% di quello che gli state dando. Cosa vuol dire? Che a una richiesta d'anni che viene fatta a un'etichetta, l'etichetta discografica gira la palla completamente al produttore. Al 100%. Quindi tu Claude dai una traccia a noi e io ti chiedo, Claude c'è qualche campionamento dentro questa traccia? Anche perché io non è che posso conoscere la dichiaria mondiale fatta di 24 milioni di verani. Quindi c'è un campionamento? Tu mi dici no Luca guarda, è il brano è mio, non ha nessun tipo di campionamento. Benissimo mi firmi il contratto, depositiamo tutto quanto, il contratto è firmato, io dopo che tu mi hai firmato il contratto carico il brano, dopo 15 giorni mi arriva una richiesta d'anni di 20 mila euro da parte del proprietario di quel frammento che tu hai utilizzato. E io gli dico guarda caro utilizzatore, parli col mio avvocato perché il brano ci è stato dato in licenza da Claude che ha firmato questa carta dove c'è scritto che lui si assume tutte le responsabilità di quello che succede su questo brano. Quindi attenzione a quello che firmate. Se poi invece fate anche ancora peggio, perché è ancora peggio perché lì ne pagate direttamente proprio le conseguenze, oggi utilizzate dei sistemi di caricamento tipo distro kids o altri dove caricate voi direttamente le tracce, siete addirittura responsabili anche nei confronti di distro kids di quello che state facendo. Quindi anche distro kids che viene danneggiato dal vostro lavoro può chiedervi danni. E c'è nel contratto, quando voi firmate il contratto con distro kids vi assumete tutte queste responsabilità. Quindi quando mi dite vado su Bitport è pieno di campionamenti, bene, vai su Bitport è pieno di campionamenti, magari di tracce caricate in paesi dove la legalità è differente che in Italia e dove non vi vengono a trovare e quindi questa cosa può avere sostanzialmente una parvenza di legalità, ma non è assolutamente nulla di legale. Infatti il discorso generico, il discorso generale non vale mai in nessun campo, perché se te dici lo hanno fatto qui, il mio amico le ha fatto e gli è sempre andata bene, un po' come l'agibilità, come l'empals, come la CIA, come le licenze, come i brani scaricati, non vuol dire questo che se lo fanno in 99 il centesimo non venga beccato, perché la legge è quella, noi poi non vogliamo spaventarvi, noi vogliamo mettervi davanti ai fatti, perché quando uno inizia a fare una cosa, intraprende una carriera sia da DJ che produttore, bisogna che sappia ciò che sta guidando. Se stai guidando una macchina che all'improvviso può impazzire, devi saperlo. Quindi te sai che questa macchina ha l'acceleratore e il freno. Noi ti stiamo dicendo quando devi frenare e quando puoi accelerare. Poi sta a te, se farla franca, se non becchi la pattuglia, come dicevamo nell'altra puntata. Quindi noi vi mettiamo un guardia, non è che facciamo i gufi, vogliamo farvi star male, perché ci sono tracce che sono stati fatti dei campionamenti illegali che sono attualmente in circolazione, è pieno il web, è piena la discografia. Ma ciò non vuol dire che un domani, anche perché non ha prescrizione questa cosa, cioè un domani il proprietario del master se ne può accorgere fra cinque anni, e ti arriva una lettera a casa. Questo non si fa per spaventare, si fa per mettere i puntini sulle i su un discorso che io mi trovo sempre a fare con i nostri produttori. Certo, certo. E quindi, attenzione, attenzione. Poi, quando prendete una parte, voi non sapete che quel brano è già stato utilizzato, avete preso in internet, su SoundCloud, eccetera, eccetera. Benissimo, sciazzammatelo. Che è la prima cosa da fare. Cioè, ovviamente tante cose da poter utilizzare. Voi lo sciazzammate e vedete se è già stata utilizzata quella parte, se è stata depositata, se non è stata depositata, chi l'ha presa, che etichetta c'è dietro. Cioè, fate un lavoro di ricerca, non fermatevi solamente al fatto di dire ah, ma l'ho trovato su YouTube e pensavo di poterlo usare. Una domanda. Certo, magari quella parte di canzone lì è una parte di canzone importante. Certo, certo. Dicevo, una domanda. Allora, questo è per la vendita, sto parlando. Sì, 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 per la vendita, chiaro. Quando uno si fa la propria traccia, la mette sui portali, su SoundCloud, appunto, in free download, dove contiene un campionamento, eccetera, eccetera, ma non ha uno scopo di lucro, allora la cosa è completamente diversa. Sì, e lì puoi incappare in rimozione, in strike del canale, in altre cose, però non di sicuro una lettera dall'avvocato che ti dice, perché non la stai vendendo, non ci stai guadagnando. No, no, esatto, non c'hai scopo di lucro. Infatti. Allora, sempre in questo ambito, fate molta attenzione appunto ai campionamenti, cioè a cosa andate a prendere. Poi è chiaro che la musica è fatta anche di campionamenti, lo sappiamo benissimo, tutti le nascondono dietro un dito, però quantomeno cercate di camuffarle. Farla pulita, come si suol dire. Sì, dategli dei filtri, usatelo in BPM diverso, cambiate tonalità, cioè cercate di personalizzarlo, quantomeno avete un'arma per andare a discutere davanti a un'eventuale richiesta di danni in questo modo, cioè il fatto che non è stato usato nel modo... Spudoratamente. ...qui era stato usato precedentemente. chiaramente vi chiederanno i danni lo stesso, però magari voi davanti a un giudice potete anche esibire il fatto che c'è stato comunque un apporto artistico da parte vostra. Sì, esatto. Una domanda che volevo farti da parte sempre dei ragazzi che ce lo chiedono, me lo chiedono, te l'avranno chiesta anche a te, ma se io voglio fare un remix ufficiale, cioè mi piace, like a prayer di Madonna, non posso campionarla, non posso rifarla, cosa devo fare? Devi contattare... Non puoi farlo, semplicemente l'unica cosa che puoi fare è... Contattare Madonna. Contatti Madonna, se ti risponde va benissimo, se non ti risponde Madonna puoi contattare un'altra cantante, fartelo ricantare... E su questo, su questo poi magari faremo una puntata intera fra differenza fra cover e remix ufficiali, bootleg, questo, però giusto per sfatare questa pillola. Molto importante anche quello che, appunto, fare una differenza fra cover, mashup, bootleg, remix, eccetera, eccetera. Sì, esatto. Quindi quella magari lo andiamo a... Sì, sì, l'anticipiamo, ma la cureremo. Un altro momento. Però ecco, rimaniamo ai sample. Sui sample, sì. Allora, ci sono vari tipi di sample oggi, no? Ci sono i sample di brani esistenti, ma non solo quelli. Le librerie, giusto. Cioè, ci sono anche sample di banche dati. Ultimamente è sempre più semplice, da parte dei produttori, dei DJ e di chi produce musica elettronica, l'utilizzo di sound pack, no? Cioè, acquistati su Beatport o su altre piattaforme, dove tu compri questi pacchetti in tonalità, non in tonalità, in BPM, non in BPM, eccetera, eccetera. Ecco, attenzione anche a questa cosa. Perché? Innanzitutto, ogni volta va letta esattamente la licenza di quello che state comprando. Nel senso che molte licenze vi liberano completamente anche il master da qualsiasi tipo di vincolo. Cioè, voi comprate 80 euro, un pack contenente voci, giro di piano, giro di basso, cassa, iet, eccetera, eccetera, e vi liberano l'utilizzo. Ma molti altri, invece, utilizzano altre forme. Cioè, ti liberano l'utilizzo privato. Cioè, tu puoi farti le tue tracce, i tuoi remix, i tuoi mashup, eccetera, eccetera, ma non ti liberano l'utilizzo economico della cosa. Che cambia totalmente. Ed è completamente diverso. Perché se tu, Claude, compri un pack su Bitport, no? E utilizzi le loro parti per fare una tua canzone con il piano che hai comprato da lì. Se tu non leggi il contratto esattamente cosa ti dice, tu puoi incappare, ed è capitato a noi recentemente, cioè non ti sto dicendo una cosa per un'altra. Un nostro produttore ha acquistato legalmente un pack su Bitport, non ha guardato com'era la fase contrattuale, quindi lui aveva la fattura di acquisto, però nella fattura di acquisto non c'era la possibilità di usare quel pack per fini commerciali. Quindi lui ha preso una parte di quella canzone che c'era nel pack, un suono, diciamo, no? E l'ha utilizzato in un suo brano. Quelli che vendono il suono hanno riconosciuto il suono campionato. Il giro di piano, diciamo. Il giro di piano. Praticamente hanno mandato una lettera del loro avvocato alle piattaforme digitali, dicendo di bloccare subito la release, per il copyright infringement, e a sua volta, a loro volta, hanno mandato a noi una richiesta di takedown immediata e la richiesta di esibizione del contratto che abbiamo con l'artista e per capire se l'artista aveva ceduto a noi i diritti completamente oppure era lui il responsabile di quello che è stato caricato. Allora, spieghiamo il takedown, perché per molti non sanno cos'è il takedown, che cosa significa... ...togliere la traccia dai... ...eliminarla. ...dai digitali store. Quindi, noi siamo stati costretti a fornire l'identità del produttore e poi, questa è una cosa che riguarda poi il produttore e i proprietari di quella parte, di quel pack utilizzato. Una bella grana. Quindi, attenzione anche a utilizzare questi pack, perché nascondono tante insidie. Tanti pack ti fanno comprare a 7 euro, ti scarichi tutto. Poi ti dicono, se vuoi utilizzarlo però per i tuoi brani me ne devi dare 150. Infatti. E quindi cambia la fase contrattuale. Oppure, tu puoi utilizzare il sample nelle tue tracce, però devi mettermi a me come autore del brano. Attenzione, ogni volta io, anzi non io, perché fortunatamente ho chi lo fa per me, cioè il mio socio, Luca Facchini, che si occupa di tutta la parte burocratica. Che salutiamo, tra l'altro. Non so se ci guarda ogni tanto. Si, guarda sempre perché sta attento che io non dica delle cavolate, se no mi fa cazzo. E praticamente, tutte le volte che noi prendiamo un brano in licenza, chiediamo, appunto, è stato utilizzato questo, è stato utilizzato quell'altro. Se mi dicono, si è stato utilizzato una parte di questo pack, eccetera, eccetera, bene, mandaci il contratto, perché dobbiamo controllare che il contratto sia corretto e possa essere distribuita da noi questa cosa. Allora, tutti dicono che in questo momento le etichette discografiche non servono a niente. Benissimo. Le etichette discografiche servono a pararti il culo quando commetti queste cose. Servono a evitare che tu faccia delle cavolate e servono a evitare che alcuni possano incappare in situazioni molto più gravi di quello che pensano. Eh sì, perché... Ecco, avere un'etichetta discografica seria alle spalle vuol dire evitarsi tanti problemi. Certo, certo. Questo è sicuro. Anche perché è un modo comune di fare, anche un po' nostro italiano, che quando compriamo una cosa, anche un telefonino, qualsiasi strumento tecnologico, non leggiamo mai le istruzioni. Prendiamo, partiamo. Questo lo facciamo anche noi. Però qui si sta parlando di atmosfere legali. Quindi il problema è molto più grosso. Non è che se il telefonino non ti va, allora poi vai a vedere cosa succede e la ripari. Qua, se fai un danno grosso, si rischiano decine di migliaia di euro. O cause, o grane, o mal di testa. No, se ti va bene, ti chiedono di togliere la traccia. Se ti va bene. E ti dargli tutto quello che ha generato fino a quel momento. Esatto. Questa è la prima cosa che può succedere. E questa però non ti garantisce il fatto che domani non ti arrivi una lettera di un'altra carta. No, infatti, infatti, infatti. Poi capiscono anche con chi hanno a che fare. Se la traccia ha avuto successo, come dicevi prima, allora sanno che sei solvibile, quindi ti vengano a fare delle richieste apposite. Perché i pack, molti comprono i pack, queste liberie di suoni, questi sample che, come dici te, vengono dati sempre a basso costo, stanno andando sempre giù, per il discorso che molto spesso non c'è la licenza, come dicevi te, Luca, di produrli, ma di suonarli. Quindi te puoi giocarci con Loop durante la serata, con il tuo software, puoi farci il tuo bootleghino che lo metti su SoundCloud. Però, se te dici, bello sto giro di chitarra elettrica, ma ci voglio fare un giro, un pezzo intorno, e lo dai a Jaywork, e Jaywork non lo sa che c'è questo campione, alla fine torna il discorso, come ha detto Luca, cioè che la lettera arriva all'etichetta discografica, ma poi l'etichetta discografica fa solo da tramite, perché se non ha saputo dall'artista che c'è un campione, il problema è dell'artista, quindi di chi ha prodotto il disco. È esattamente dell'artista, cioè in prima battuta è dell'etichetta, ma l'etichetta cosa fa? Come dicevamo prima, richiede un takedown da tutti i portali digitali. Come dicevo anche l'altra volta, ti ricordi che ne abbiamo parlato? Sì, sì. Richiedere il takedown di un brano tante volte costa all'etichetta, perché il fatto che tu chiedi un lavoro aggiuntivo a un aggregatore che riceve migliaia e migliaia e migliaia di tracce tutti i giorni, vuol dire che deve mettere una persona a fare questo lavoro, cioè fare il takedown fisicamente da 120-140 portali sparsi nel mondo. E questa persona non è un bot, è una persona che riceve dei soldi, che ha uno stipendio come tutti noi, quindi deve essere pagata. E chi la paga? Tutti aggregatori oggi cosa fanno? Visto questo problema che sta aumentando sempre di più, dice benissimo, voi mi fate caricare delle cose e poi me le fate scaricare dopo un mese, sei mesi, un anno, è quello che è. Benissimo, io vi metto 50 sterline, 50 euro, 50 dollari, sto dicendo delle cifre a caso, ogni aggregatore può avere il sistema, però ti può chiedere, in fase contrattuale, ti può chiedere il servizio aggiuntivo, quindi diventa un costo anche. Esatto. Io ho pubblicato, l'anno scorso con J-Work abbiamo pubblicato 900 release, benissimo, se di queste 900 release pubblicate, il 10% ha dei problemi e il 10% sono 90 release e ogni release mi costa 50 euro tirarla via, tu fai i conti a fine anno, cosa può costare a J-Work? Eh appunto, appunto. Non a J-Work, io dico J-Work perché sono qua io, cioè come a tutte le altre etichette. Facendo le debite proporzioni, se J-Work può avere il 10% sulle release, immaginati un aggregatore, quante tracce può ricevere, quindi se J-Work ne produce, ne fa uscire 900 l'anno, un aggregatore ne produrrà migliaia e migliaia, quindi se andrete a rompere le scatela a un aggregatore, a dargli del lavoro in più, questo aggregatore vi dovrà far pagare, quindi in pratica è sempre meglio saperle prima le cose, noi siamo qua apposta per dirvele, non per fare il grillo canterino che noi sappiamo le cose, le diciamo per voi, cioè noi grazie a Dio ci abbiamo picchiato la testa e lo sappiamo questa cosa qui e sappiamo più o meno a cosa andiamo incontro, però chi si approccia al mondo adesso e vista la situazione che molti producono in casa, molti adesso con un computer, una scheda audio e un software, si può fare una hit, si può fare qualsiasi cosa, è bene che sappiate che potete incappare in questi problemi, quindi se lo sapete prima, sgomberate il campo, gli evitate, gli evitate, quantomeno mettete l'etichetta nella condizione di sapere quello che sta succedendo, poi allora Claude tu mi mandi una traccia, con un campione, questa traccia sentiamo che è fortissima, ok? Perché? Capita. Cosa facciamo? Ci muoviamo con il proprietario del master, se lo rintracciamo, con l'editore se lo rintracciamo e cerchiamo un accordo per utilizzare quella parte. Poi ci sono quelli che lo cedo, che dicono benissimo, voglio 5.000 euro, voglio 10.000 euro, voglio una parte di royalty, voglio l'editoriale completamente mio e ci sono altri che ti dicono guardi non siamo interessati e il brano non può essere utilizzato. Allora a quel punto lì, se noi sentiamo che la traccia è veramente forte, ci sono altri sistemi, ok? Facciamo risuonare quella parte, ci sono degli studi di registrazione che rifanno i campioni, in tutto e per tutto uguali all'originale. Cioè, io conosco degli studi che riescono a riprodurre fedelmente il campione risuonandone tutte le parti. Costano, ma ci mettono dalla parte che non abbiamo utilizzato un sample, abbiamo risuonato, quindi quella parte diventa una cover. Esatto, esatto. Perché viene risuonata e non contiene nessuna parte dell'originale. Quando tu in un tribunale devi dimostrare che è stata risuonata, devi riportargli tutte le parti separate. Praticamente gli stem che sono stati suonati da questa orchestra, da questo gruppo, da questo DJ, insomma. Esatto. Prendi il campionamento della KC and the Sunshine Band con un giro di chitarra, il groove, eccetera, eccetera, la KC non si dà l'opportunità di utilizzarlo, noi lo facciamo risuonare, un domani quando il proprietario del master della KC and the Sunshine Band ti bussa alla porta e dice oh ragazzi avete utilizzato un sample e tu gli dici no, non è un sample, l'abbiamo risuonato. Infatti, devi dimostrarlo. E loro ti diranno, dimostrami dimostrami che l'hai risuonato. Allora, proprio questa settimana, la settimana scorsa, abbiamo fatto una licenza in Brasile per un brano contenente il giro di Jump di Ivan Allen, un brano che ho fatto io, e è stato risuonato completamente. Abbiamo fatto licenza in Brasile di questo brano e chi ha preso la licenza ci ha chiesto gli stem separati perché non credeva che il brano fosse stato risuonato, tanto era fedele all'originale. Ok? E invece era un brano completamente risuonato. Quindi i modi per aggirare l'ostacolo ci sono. Quindi non è uscito con un altro titolo, esce come cover di Ivan Allen, Jump, gli autori e gli editori sono quelli originali, però non contiene frammenti dell'originale. Esatto. E in questi casi i diritti d'autore andranno agli autori originali, poi questo lo spiegheremo quando faremo la puntata. E noi abbiamo la quota del master, la proprietà del master. Quindi i metodi ci sono per fare le cose in regola, come detto bisogna saperli, bisogna cercare di aggirare l'ostacolo se proprio una produzione è forte come stavi dicendo tu e l'etichetta discografica e il DJ si possono trovare d'accordo farlo risuonare a spese vediamo di chi però insomma trovare un accordo per far uscire questa produzione forte. La cosa assolutamente da non fare è omettere i campionamenti o i sample non dichiarati cioè non legali che non si possono utilizzare. Quella è una cosa da non fare quindi o ci troviamo d'accordo con l'etichetta discografica e gli dici guarda c'è questo campione qua dentro che io ho preso da. Andiamo a vedere sulla lista cosa dice se l'hai acquistato regolarmente avrai chiaramente un libretto dove ti spiega andiamo a vedere quali diritti hai su quei campioni e se si possono utilizzare. Fatto questo e allora possiamo andare avanti ed è per questo che è importante affidarsi a un'etichetta discografica piuttosto che far da soli perché molto spesso queste cose per chi inizia sono nascoste non le capisci non ci arrivi giustamente così mentre un'etichetta ti blocca subito Luca ti dirà guarda no fermo cos'è utilizzato fammi vedere questa cosa la guardiamo noi la facciamo vedere ai nostri esperti se si può fare si fa se non si può fare si risuona si trova un modo però autoprodursi come molti fanno adesso comporta questo rischio e questo rischio porta a dei guai potrebbe portare dei guai seri cioè non ce l'auguriamo mai nessuno di noi neanche di quelli che ci stanno guardando però bisogna sapere le certe cose però uno deve essere consapevole che possono capitare queste cose magari non capita però uno deve essere consapevole di quello che può che può succedere a prescindere da questo poi c'è un'altra un'altra cosa di cui ti vorrei parlare si e sempre per l'utilizzo di queste voci acquistate o scaricate da Splice in abbonamento Splice o altri portali similari allora lì subentra un'altra cosa che secondo me invece è più legata al fatto artistico nel senso tu prendi una voce da Splice e dici cavolo che bella sta voce in tonalità con la mia base sta da Dio è fighissima viene fuori un brano della Madonna la voce da Splice visto che pago un abbonamento posso utilizzarla ok ho quindi l'opportunità di utilizzare questa voce la metto appunto sulla mia base suona perfettamente ci sta da Dio e la mandi all'etichetta discografica benissimo io ti chiedo la voce dove l'hai presa l'ho presa da Splice tutto bene ho il contratto eccetera eccetera benissimo vai a sciazzo da Marla e vengono fuori 264 release che utilizzano la stessa voce adesso subentro un altro discorso benissimo tu la stai utilizzando in maniera legale ok ma altre 264 persone l'hanno utilizzata in maniera legale bene partiamo da un presupposto a livello artistico che cosa ci guadagni Claude tu faresti uscire un brano con una voce che l'hanno già utilizzata in 200.000 persone altri produttori l'hanno usata un anno prima di te e magari ha già fatto svariati migliaia milioni di streaming su Spotify dopo un anno ti presenti tu con la stessa voce e fai uscire quel brano cosa pensi che possa fare il mercato musicale questo accade anche con i pacchi bravo Luca oppure dice cassa ancora sta voce esatto esatto questo accade anche con i pacchi con i pacchetti di sample perché spesso mi è capitato anche a me durante le produzioni che Shazami vedi che è già uscita magari in 10 in 5 3 release che non hanno fatto niente allora ci pensi un po' e questo capita come dici tu quindi cosa fai in quel caso lì? in quel caso lì ci sono due strade una il produttore dice a me non me ne frega niente io voglio uscire lo stesso mi piace appunto perché mi piace così quindi esci lo stesso io te la faccio uscire non la depositiamo perché probabilmente quella voce è già stata depositata altre volte solitamente il sistema più corretto è depositare l'instrumental se è tua ok tu mi mandi questa per chiarire mi mandi questa traccia con questa voce benissimo togliamo la voce depositiamo la traccia instrumental come inedito e la facciamo uscire con la voce che magari è già stata depositata però questa è una è una cosa che può capitare e la fai uscire a tuo nome e dici benissimo io ho rifatto per l'ennesima volta questa traccia una scelta tua ok mi capita tutti i giorni questa vicenda non è non è una cosa rara non è una roba strana e il mio consiglio è benissimo ti piace quella linea di canto falla ricantare punto falla ricantare con un'altra voce magari cambiando un po' il testo e fai un'opera completamente inedita a quel punto puoi dire ho fatto un brano inedito al cento per cento esatto anche perché oggi ci sono tante piattaforme che ti permettono di contattare dei cantanti che ti scrivono un testo e ti cantano la canzone anche a delle cifre abbastanza certo tu hai su Fever ce ne sono vai su Fever e trovi una cantante americana e gli mandi questa e gli dici guarda io ho fatto questa cosa qua mi piacerebbe metterci una voce inedita e trovi un accordo e la fai ecco non abbiate fretta delle volte purtroppo quando hai il brano finito lo vorresti già fuori e nessuno oramai ha la pazienza di fare la seconda parte del percorso cioè quella di dire bene ho fatto 90 arriviamo a 100 che è quella più importante la seconda parte perché l'idea è forte ma poi la devi sostenere se non l'amplifica e non la sostiene l'idea può bruciarsi in un attimo quello è il problema vero il problema è che essendo molto facile fare le tracce oggi metti giù una base se uno è un po' bravino in studio lo fa lo fa in maniera abbastanza semplice gli metti sopra una voce scaricata appunto da questi portali e tu in due giorni hai finito una traccia e anche tu che in due zone hai finito una traccia di solito dai poco peso a questa traccia cioè ti interessa di più far girare dire ai tuoi 280 amici su Instagram che hai fatto la traccia numero uno e sei il più figo del mondo purtroppo non è così cioè non diventi il più figo del mondo in quel modo ci sono altri modi che ti possono aiutare e poi comunque rimane sempre una cosa tua che hanno già fatto altre persone prima di te quindi non non trovo un accrescimento artistico in questo ti faccio prometto che si fa si 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 fa si fa però se ti devo dare un commento da persona che si occupa di questo lo trovo un po' a buttare via il proprio lavoro assolutamente ti faccio una domanda in questo caso per il caso che hai citato proprio tu adesso se io sono quello che ha utilizzato prima la voce su Splice posso rivalermi su di te che hai utilizzato dopo la voce no perché sei Splice quindi nessuno è proprietario fra virgolette cioè praticamente è un libero utilizzo cioè nel senso tu hai messo la tua voce io e te cantiamo un brano lo mettiamo su Splice uno lo noi firmiamo un contratto con Splice che liberiamo gli utilizzatori da ogni tipo di contratto tu lo scarichi da Splice hai un abbonamento lo utilizzi su una delle tue tracce e amen cioè la cosa subentra invece dal punto di vista di SIAE o di di utilizzo di questo tipo perché durante un tu fai una serata utilizzi la tua traccia ok con la voce presa da Splice viene un campionamento durante la serata i soldi non li prendi tu eh no perché va l'artista prima infatti quindi l'importante in questo caso è depositarla come dicevi tu se il gioco vale la candela è proprio la traccia non ne potete fare a meno vi piace così tanto conviene andare avanti altrimenti se non la puoi depositare non ci puoi guadagnare e non hai nessun diritto perché è presa da una piattaforma gratuita di condivisione ci pensiamoci no cioè onestamente se la base è così forte che merita che merita io ci investirei un po' di tempo e un po' di denaro per completare l'opera certo se invece è una cosa che tu dici vabbè tanto l'ho fatta così giusto per passarmi due ore la butto fuori quello che succede succede va benissimo anche quella va benissimo anche quella cosa lì però devi saperlo prima ecco eh sì perché fino a quando le cose non vanno ok nessuno si accorge di niente non cambia niente se però la cosa inizia a andare te la inizia a suonare il getta te la inizia a suonare camel fat allora magari il fatto di guadagnarci qualcosa o di avere credibilità o questo può ti può interessare insomma perché può cambiarti la carriera anche se ti parte una traccia in questo caso certo e poi c'è un'altra cosa magari io non me la ricordo quella voce magari tu la mandi a un fai un promo pool ok investi dei soldi su zip dj o altri promo pool per far conoscere la tua traccia arriva a un diso che dice ancora questa voce basta cioè l'ha utilizzata uno la settimana scorsa uno quindici giorni fa uno un mese fa è sempre quella basta adesso certo un altro discorso sempre agganciandomi sui campioni i campionamenti le a cappella che molti utilizzano anche sui bootleg ma anche sulle versioni tanti escono con delle voci con dei pezzi solamente delle a cappella quindi anche smontare e rimontare le a cappella vale il discorso che hai fatto a inizio video giusto? è un campionamento è un campionamento quindi anche se il è per tutto anzi anzi se vogliamo metterla nella gravità dei fatti è peggio è ancora peggio perché prendi proprio la voce di una persona che ti ha autorizzato a fare quindi facciamo una domanda a Luca e poi c'è anche l'aggravante editoriale che se tu prendi una cappella e gli scombini il testo vai a danneggiare l'opera editoriale esatto e lì è un altro tipo di causa esatto cioè non hai solo il fatto che tu hai preso una cosa che non era tua ma ne hai anche modificato l'aspetto artistico senza diritto senza l'autorizzazione esatto quindi è come se prendi Alba Chiara di Vasco Rossi e gli cambi il testo cioè non puoi farlo quindi io mi agganciavo proprio su questo per un pezzo famosissimo che tutti sapranno di bla 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 di Gigi D'Agostino che presa la cappella di Stretch se non mi sbaglio Why did you do it esatto quindi anche in quel caso lì ci sarà stata o una disputa o noi non lo sappiamo non so se c'è stata o meno ma io credo credo che adesso non voglio era il 98 mi sembra di cui non conosco no no mi è venuta in mente a me io credo che visto il grande successo che ha avuto il brano e il valore economico che ha raggiunto io credo che all'epoca la media records abbia trovato l'accordo con il proprietario della voce e si siano accordati dal punto di vista economico perché può capitare anche questo cioè può capitare che uno non solo ti fa subito la denuncia magari si trova un accordo fra etichetta discografica e etichetta proprietaria del campione o della voce o tutto quello che volete quindi le strade ci sono sì io allora per dirti di cose personali Clamaran anni fa che è uscito con Ossian Drive mi sembra un brano Ossian Drive che conteneva un campione di un mio brano un campionamento di un mio brano prima di uscire ha contattato la mia etichetta discografica dell'epoca chiedendo la liberatoria dell'utilizzo del sample cedendoci parte del 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 valore del brano e io sono uno fra quelli che ha firmato il brano di Clamaran perché appunto conteneva una parte di una mia opera precedente quindi l'operazione di Clamaran è stata fatta in modo corretto quindi sappiate che Luca è ricco adesso lo ha dimostrato dice scherzi a parte no quindi sono tutte cose che possono possono accadere ci si può trovare d'accordo e l'importante è non dar per scontato tutto cioè tutto quello che fate perché sai su internet l'abbiamo detto anche l'altra volta si dà per scontato che tutto sia gratis tutto non è gratis molto spesso quando ci viene dato gratis c'è sempre una sorpresina dietro si c'è sempre la sorpresina quando te la danno gratis la sorpresa c'è sempre esatto esatto è vero chiudiamo qua perché quando te la danno gratis la musica si si infatti sta bene noi qua stiamo parlando di musica anche ognuno ha le proprie passioni però qua stiamo parlando di musica e stiamo cercando di capire campionamenti sample che poi è la stessa cosa dove sono legali quando sono legali cosa si può fare e cosa non si può fare quindi ci sono stati casi anche eclatanti tipo quello di Michael Jackson che a cui è stato richiesto i danni da Albano quello dei cigni non mi ricordo quello invece è stato preso perché Michael Jackson ha preso una parte di melodia quindi ha risuonato una melodia di Albano all'interno di di un di un suo brano e il tribunale ha stabilito che è vero che la melodia era rispecchiava esattamente l'originale e Michael Jackson all'etichetta ha dovuto pagare una fraccata di soldi ad Albano bene vuoi aggiungere qualcos'altro Luca abbiamo qualcosa da dire allora prima di concludere questa cosa volevo fare l'ultimo l'ultima raccomandazione quindi quando fate qualsiasi cosa in studio confrontatevi col vostro discografico che sicuramente vi può dare un consiglio non sempre vi dice le cose che vi volete sentire dire perché alla gente sta sui coglioni sentirsi dire no quello non si può fare è vero e quando tu gli dici così tu automaticamente non capisci un cazzo purtroppo se io ti dico che non si può fare probabilmente non si può fare e non lo dico perché non ho voglia di pubblicarti il brano anzi oppure perché sono meno bravo di un altro che te lo pubblica ma probabilmente perché sono un po' più attento a quello che potrebbe succedere ecco questo volevo dirlo e ringraziate il discografico che vi dice questa cosa non si può fare fai attenzione non ringraziate il discografico che vi dice sì sì buttiamolo su e poi in qualche modo ci arrangiamo eh sì perché ci sono anche etichette l'abbiamo detto anche l'altra volta che non vi chiedono neanche la posizione sia e non vi chiedono l'iscrizione del brano la sia non vi chiedono niente però sono etichette punto interrogativo sono etichette o sono persone che si sono intrufolate nel mondo della musica grazie all'enorme confusione che c'è e provano a raccattare qualche spizzo a destra e a manca lasciando poi il produttore con il cerino in mano in casi gravi perché è questa la situazione infatti perché poi magari gli date il brano il brano non partirà mai ma mettete che parta e voi non avete nessun diritto editoriale non avete nessun diritto contrattuale o pochi quelli che ve li hanno lasciate perché il contratto sicuramente non lo leggete vi basta solo farvi la foto su facebook mentre lo firmate e dire nuovo contratto con hai visto questo c'è un post usanza no adesso poi non importa con quale adesso su questa usanza sarebbe meglio che invece di fare la foto su facebook o instagram uno legge fate la foto su facebook e instagram ma magari leggetelo il contratto esatto a me dispiace quando io ho Luca Facchini che perde delle ore a fare i contratti e poi li firmano senza leggerli e poi dopo due giorni lo chiamano per chiedergli una cosa che c'è sul contratto e dico scusami e cosa hai firmato l'altro giorno? e vabbè capita a me capita sui video perché io faccio un video su un argomento e poi mi fanno le domande senza aver letto il video in base solo al titolo del video guardati quantomeno il video poi dopo guarda se lo dico se non lo dico invece ti fanno solo la domanda quando te l'hai detto magari al minuto o due ecco questo è un po' perché non abbiamo voglia di leggere o di ascoltare hai detto una cosa giustissima la settimana scorsa che internet è il post del tutto e subito cioè o sento 30 secondi di un video che mi spiega esattamente quello che volevo sapere al 31esimo secondo mi sono già rotto i coglioni e se lo dicono il minuto dopo scrivo gli scrivo una mail perché ci ho messo troppo tempo vero vero accade proprio così molto spesso accade così perché non hai voglia di guardarli però non si può spiegare dei concetti complicati o dei concetti estesi in un minuto netto cioè se le cose sono importanti hanno bisogno del loro tempo altrimenti non staremmo qua un'ora a spiegare delle cose del campione dei campionamenti quindi ve lo potete guardare con calma ve lo potete rimandare indietro dopo che è finita la premiere non dovete guardarle in diretta assolutamente però guardatevelo se siete soprattutto produttori o DJ che volete andare in conto alle produzioni guardate ascoltate ciò che vi ha spiegato Luca insomma Luca non comincia oggi come già detto l'altra volta nella prima premiere non ha iniziato adesso a fare produzioni è in questo campo da decenni insieme ai suoi collaboratori quindi vi sta dicendo le cose come vanno giusto? sì purtroppo siamo in questo campo da decenni e devo dire che c'è stato un peggioramento drastico nella conoscenza della materia cioè oggi c'è molta meno attenzione alla parte legale della musica questo è dato un po' dalla situazione di internet che ha portato sicuramente ad aprire le strade a tante cose però è giusto anche che ci sono anche in mezzo delle persone che fanno degli errori perché non sanno non solamente perché se ne fregano ed è giusto che un video come questo magari possa salvare diciamo il culo si può dire possa salvare il culo a una di quelle persone andrebbe già bene e noi siamo per questo e già se salviamo il culo a una persona il nostro il nostro l'abbiamo fatto diciamo il nostro scopo l'abbiamo raggiunto senti invitiamo magari per tutti quelli che sono ancora in chat di lasciarci non l'abbiamo detto prima mia dimenticanza di lasciarci nella chat magari qualche richiesta per le prossime premiere perché noi abbiamo tutti gli argomenti come detto qui parleremo sempre di produzione discografica grazie a J-Work Luca Peruzzi e i suoi collaboratori quindi se avete qualcosa da chiederci potete lasciarlo nei commenti potete metterlo qua nella chat potete scriverlo a me ma scriverlo anche a office at j-work punto com esatto che è la mail la mia mail diciamo dell'ufficio e e quindi lì vi posso vi posso rispondere Luca Peruzzi e J-Work alle varie cose se avete chiaramente dei demo da mandarci fatelo tranquillamente noi li ascoltiamo e se avete bisogno di qualche consiglio inerente appunto all'intricato mondo discografico voi potete scrivermi o io o uno dei nostri collaboratori e soprattutto Luca Facchini che salutiamo lo abbiamo citato oggi non si può lamentare dai abbiamo citato anche perché è lui che si prende a mano poi la bega di tutti i contratti quindi è giusto che questa fase la segue soprattutto lui ed è giusto nominarlo bene ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e anche l'altra puntata ricordiamo che questa è la seconda di seconda premiere che io e Luca facciamo insieme questa joint venture fra SOS4DJ e J-Work per mettere a disposizione tutto il nostro tra virgolette materiale che abbiamo da dirvi raccontarvi per farvi crescere e per farvi evitare grane errori qualsiasi cosa insomma quindi chiedeteci noi siamo qua a disposizione torneremo la settimana prossima con un argomento nuovo quindi da parte mia e da parte di Luca altro argomento molto scottante eh sì qui non spoileriamo niente ma è scottantissimo già forse ancora più di questo sì assolutamente ne abbiamo ne abbiamo guarda ogni settimana ne abbiamo da sviscerare di argomenti che tu non hai un'idea perché noi voi noi adesso stacchiamo ma poi io con Luca ci sentiamo e ci mettiamo lì iniziamo a rimuginare tutto buttiamo nel calderone idee e poi esce fuori il vulcano l'Etna esplode parlando di Sicilia non a caso bene Luca io ti ringrazio grazie a tutti e grazie a Claude dell'ospitalità e vi aspettiamo la prossima settimana con il nuovo argomento del di questo di questo intricato mondo benissimo grazie a te Luca grazie a tutta J-Work ci vediamo la prossima settimana ciao